Le fibrillazioni insieme all'Udc di Comiso che comincia a perdere pezzi, il consigliere comunale Alessandro Guastella si dichiara infatti indipendente mentre Luca Barone è il nuovo coordinatore cittadino del partito della vela. Due arresti per spaccio di stupefacenti a Comiso operati dai carabinieri, manette due fratelli di Catani in possesso di un chilo di marijuana, i due push raggiunti e fermati dopo un breve inseguimento. Un reportage su Rai News dalle ultime travagliate vicende che hanno interessato il comparto agricolo nel Lipparino con i riflettori puntati, in particolare sulle vicissitudine affrontate agli imprenditori di altra agricoltura. Presentata la cittadinanza vittoriasi alle istituzioni, i lavori relativi al progetto Giardini in Campo, ovvera di riqualificazione delle casecampo di concentramento da parte di studenti Iblei e francesi. Un appello al sindaco di Comiso Alfana affinché sospenda le gare di affidamento di infanzi sportivi cittadino a lanciare l'appello in un documento condiviso diversi dirigenti alle società sportive locali. Benvenuto un nuovo appuntamento con l'informazione su eventi Sicilia, pagina politica dunque come avete visto in apertura, ci occupiamo delle fibrillazioni, dei fermenti in seno all'Udc di Comiso, intanto il consigliere comunale Alessandro Guastella si è dichiarato indipendente, intanto il segretario provinciale ha nominato il nuovo coordinatore cittadino. Prima in novità nello scudo crociato Comisano, sempre più spaccato al suo interno dopo la decisione di partecipare alle primarie di coalizione del centro-sinistra. Ieri sera nel corso della riunione provinciale del Partito della Vela, all'unanimità si è deciso di nominare Luca Biagio Barone come coordinatore cittadino dell'Udc di Comiso. Proveniente dalla società civile, Barone avrà il compito di creare il coordinamento del partito e il comitato elettorale per la prossima competizione amministrativa di giugno 2013. La carica durerà fino allo svolgimento del prossimo congresso, intanto lo scudo crociato Comisano comincia a perdere pezzi. Il consigliere comunale Alessandro Guastella si dichiara indipendente. Alla base di questa sua scelta è il metodo con cui il partito ha deciso di correre alle primarie. La scelta di dichiararmi indipendente è frutto di una decisione maturata alla luce di ciò che è emerso nel mio partito questi giorni e subito dopo Pasqua. Qual è il centro della decisione? La partecipazione alle primarie di coalizione con il centro-sinistra, ma non tanto la partecipazione alle primarie di per sé, ma la metodologia usata dai vertici provinciali. Tenuto conto che noi, pochi giorni prima della Pasqua, ci siamo riuniti a Comiso alla presenza anche del segretario provinciale per delineare e definire chi doveva essere il coordinatore cittadino. Ci siamo riaggiornati subito dopo Pasqua e io apprendo dalla stampa mercoledì mattina, quindi non sono stato assolutamente informato di tutto ciò, che l'Udc a Comiso parteciperà alle primarie con un proprio candidato. Quindi questa scelta che ci viene calata dall'alto in un certo senso mi è apparsa nuova, mi è apparsa strana, tanto è vero che io non posso condividere la metodologia usata. Io in questi anni del mio mandato dal consigliere comunale ho sempre esercitato tutto come ho dichiarato ieri sera in consiglio con passione e responsabilità e coerenza. La coerenza sta nel rispettare il mandato ricevuto dal mio elettorato, la passione che mi contraddistingue come giovane perché sono il più giovane consigliere in carica e la responsabilità perché in questi anni difficili di gestione amministrativa a Comiso ho agito sempre responsabilmente. Quindi la mia scelta di dichiararmi indipendente viene fuori da questa decisione assunta non so da chi sulla metodologia innanzitutto di partecipare alle primarie e poi sulla scelta del candidato. Io quando il discorso si chiudeva semplicemente ci siamo lasciati augurandoci anche la Pasqua nel riaggiornarci per nominare un coordinatore. Premesso che i più canoni ed elementari principi di democrazia ma anche nel rispetto dei ruoli istituzionali, nel ruolo che ciascuno di noi ricopre, presupponeva che prima di delineare un cammino venisse quantomeno comunicato. Intanto sulla nomina di Barone a coordinatore dell'Udc di Comiso interviene Daniele Barrano copogruppo in consiglio comunale. Barrano dice alla nomina di Barone sia un esempio anche per vittoria. Il capogruppo dell'Udc in consiglio comunale Daniele Barrano esprime le sue vive congratulazioni al neocoordinatore dello scudo crociato Casmeneo Luca Barone. Per il consigliere vittoriese si tratta di un cambio di passo necessario che apre una pagina innovativa per il partito grazie all'energia e alla passione di un giovane competente. Ma per l'esponente dello scudo crociato Iparino questa nomina farebbe da contraltare a quella del commissario cittadino vittoriese. Una nomina legata, detta di Barrano, ad un modo obsoleto e ristagnante di fare politica. Con rammarico il nostro partito, aggiunge Barrano, si è conquistato le cronache cittadine non per azioni mirate a salvaguardare la comunità, non per proposte, non per progetti, ma per batti vecchi riguardanti la possibile spartizione di posti di potere. Occorre, sottolinea il capogruppo Udc, una politica diversa. Tutto ciò ha nauseato gli elettori come si può facilmente vincere dagli ultimi dati elettorali. Evidentemente qualcuno non l'ha ancora capito e continua a curare il proprio piccolo orticello, stando attento ad un tornaconto personale. Candidati in fermento a Comiso, tra otto giorni infatti si vota per le primarie del centrosinistra e oggi ai 20 quotidiani c'è stato uno dei tre candidati. Michele Di Giacomo, PD. Meno otto alle primarie del centrosinistra nella città della Dea Diana. Si vota domenica 14 aprile e i candidati sono in piena campagna elettorale. Al momento a sfidarsi sono in tre Michele Di Giacomo e Filippo Spataro per il PD, Giovanni Di Giacomo per l'Udc. Ma entro lunedì potrebbe aggiungersi un quarto nome. Questa mattina ospite di eventi quotidiani uno dei due candidati del PD, Michele Di Giacomo. Abbiamo scelto il percorso delle primarie alla fine per cercare di avere una unità del partito, del più grosso partito della provincia di Ragusa. Abbiamo in questi giorni fatto tantissimi nomi sia interni al partito sia della società civile. La società civile però non abbiamo trovato la quadra del cerchio. Quindi all'ultimo ci siamo resi conto che per unire il partito le primarie rappresentavano l'unico percorso democratico che potevamo fare. Individuato il percorso, resta da capire adesso se una volta celebrate le primarie le due anime del PD si ricomparteranno attorno alla figura del vincitore, chiunque dei tre esso sia. Per Di Giacomo non ci sono dubbi in tal senso. Penso che le primarie alla fine saranno il percorso democratico tanto auspicato di tutti e sono sicuro che chiunque sia il vincitore di queste primarie o il sottoscritto, l'amico fraterno Filippo Spadaro o Giovanni Di Giacomo, tutti confluiremo sul candidato a sì. Inviti e appunti soprattutto di buoni comportamenti e soprattutto un appello a volare alti e a fare chiarezza così le PD di vittoria all'indirizzo dell'Udc. Nessuna divergenza programmatica, nessun immobilismo nella città. La segretaria del PD risponde in queste ore alle ultime esternazioni dell'Udc per bocca del consigliere Barrano invitando il partito della vela a volare alto oltre che a manifestare chiarezza. Per il PD non ci vuole molto cominciando intanto a dare pieno sostegno al sindaco Nicosia poi sarebbe necessario condividere le azioni della maggioranza dando il proprio fattivo contributo e ancora è indispensabile che i consigliere dell'Udc siano più presenti e produttivi in consiglio comunale ma dove punta l'indice il PD parine sulla questione delle cosiddette divergenze programmatiche il PD chiede quindi allo stesso Barrano di motivarle anche perché finora si è parlato solo di deleghe assessoriali e incarichi di sottogoverno. Richieste legittime per carità rileva la segreta del PD ma non si dica però che esistono divergenze programmatiche in quanto non risultano assolutamente. Infine l'ennesimo invito col PD chiede dalle forze politiche un nuovo spirito di condivisione per contribuire alla crescita di una città in un periodo di gravissima crisi. Terza seduta del Consiglio Comunale di Vittoria che procede a passi spediti verso l'approvazione dello Statuto Comunale durante l'ultima seduta approvati ben sette articoli tra cui quelli relativi al funzionamento dello Statuto e quelli concernenti ai meccanismi di partecipazione esitati inoltre gli ambiti di competenza del Comune il bilancio partecipato e le questioni dell'associazionismo e del volontariato. La seduta dopo circa tre ore di lavori è stata aggiornata a lunedì 8 aprile occasione per trattare l'articolo 15 in materia di referendum. La cronaca due arresti per droga a Comiso operati dai carabinieri Manette e due fratelli entrambi catanesi trovati in possesso di Mariana. Operazione antidroga dei carabinieri di Comiso in Manette due fratelli catanesi uno dei quali residenti in città Silvio e Fulvio Torre rispettivamente di 21 e 27 anni entrambi incensurati durante un servizio di controllo del territorio sono stati trovati in possesso di un involucro in cellofan contenente più di un chilo di marijuana. I militari dell'arma dopo aver intercettato lungo la SP7 all'altezza del distributore Lucoil due autovetture Ford Focus entrambi di colore grigio sono riusciti dapprima a fermare il mezzo condotto da Silvio Torre a bordo del quale è stata rinvenuta occultata sotto il sedile anteriore la droga quindi si sono posti successivamente all'inseguimento della seconda autovettura condotta dal fratello maggiore e ritenuta la staffetta l'auto è stata raggiunta poco dopo a pedalino i due fratelli una volta bloccati e sottoposti a perquisizione sono stati condotti presso la caserma di via Leonardo Sciascia e al termine delle formalità di rito sottoposti agli arresti domiciliari Silvio Torre è ritenuto inoltre responsabile di aver ceduto nella serata di giovedì quattro involucri della medesima sostanza ad un diciassettene di comito nei pressi dell'ospedale Margherita e dovrà quindi anche rispondere di spaccio di sostanza stupefacente aggravata dalla cessione a soggetto minorenne la droga sequestrata verrà ora inviata presso i laboratori di sanità pubblica dell'azienda sanitaria provinciale di Ragusa per stabilirne l'effettiva composizione nonché il numero di dosi ottenibili della sostanza sequestrata che avrebbe potuto fruttare dai 7.200 a circa 9.300 euro una volta immessa sul mercato della droga in quanto attualmente un grammo di marijuana può essere acquistato al prezzo variabile dai 7 ai 9 euro e un altro spacciatore è finito nella rete degli uomini della mobile si tratta di un albanese trentenne incensurato per gli inquirenti avrebbe avuto un ruolo nel trasporto dei 35 kg di marijuana sequestrati qualche giorno fa a cicli nella giornata di ieri personale della sezione antidroga della squadra mobile di Ragusa ha posto in stato di fermo il cittadino albanese Isenai Erwin incensurato di 30 anni su provvedimento emesso dal sostituto procuratore della Repubblica di Siracusa D'Elia Boschetto è ritenuto responsabile di detenzione di stupefacente insieme allo ciclitano Guglielmo Michele Magro e agli albanesi Isenai Ermand e Bregai Gadsmed arrestati il 29 marzo scorso nel territorio di Lentini come si ricorderà il terzetto era stato bloccato mentre stava recuperando una Picasso lasciata in precedenza posteggiata nei pressi di una stazione di servizio sulla Catania Lentini il Magro era stato bloccato subito mentre gli altri due avevano cercato di fuggire ma erano stati bloccati l'uscita di Avola nell'auto del Magro c'erano 35 kg di marijuana l'arrestato odierno sarebbe il quarto componente del gruppo di corrieri che dovevano effettuare il trasporto dell'ingente quantitativo di stupefacente da Catania alla base operativa di Contrada Timperosse a Donna Lucata dove si trova una proprietà del Magro proprio qui il primo aprile scorso a seguito di un'accurata perquisizione sono stati rinvenuti altri 40 kg di marijuana dopo le formanite di rito l'arrestato è stato connoto presso la casa circondarelle di Ragusa a disposizione dell'autorità giudiziaria coordinatrice e l'attività della Guardia di Finanza di Ragusa ha consentito in queste ore l'esecuzione di 5 provvedimenti di chiusura di altrettante attività commerciali le Fiamme Gialle hanno infatti apposti i sigilli ad una pescheria di Santa Croce e Camerina ad un negozio di ortofrutta Ragusa e hanno sospeso l'attività di due ambulanti di Gerratane da ultimo hanno apposto anche i sigilli ad un bar ubicato in un centro commerciale a Ragusa ai 5 esercizi è stata anche inflitta la sospensione dell'attività per tre giorni consecutivi gli episodi di questi giorni con due bambine abusate al patrigno e il maniaco che seminava il panico tra le studentesse di Ibla ne abbiamo parlati risera alla rubrica Focus con l'opsicoterapeuta Riccardo Lantieri l'orco è spesso un componente della famiglia una persona di cui ci si fida ma non sono solo gli uomini ad essere abusanti c'è anche una percentuale di casi che riguarda le donne e lo ha dimostrato appieno l'ultimo episodio che ha visto loro malgrado come protagoniste due bimbe di 12 e 14 anni vittime del patrigno ne abbiamo parlato con lo psicoterapeuta Riccardo Lantieri intanto l'orco non è orco nel senso che se fosse tale avremmo risolto un po' il problema che molto spesso chi abusa una particolare affinità con i bambini intanto li tratta o da adulti o lui si mette un po' al loro livello per cui crea quello che credo Junck disse fraintendimento per cui crea una sorta di situazione non voglio dire tra pari ma comunque abbastanza simile che aiuta un po' giustifica agli occhi del bambino sì queste attenzioni poi anche il bambino naturalmente fraintende molto spesso c'è da dire che comunque per quanto riguarda proprio la specifica attività sessuale l'abuso l'abuso sessuale naturalmente perché poi ci sono anche altri tipi di abuso ma altrettamente quanto altro l'abuso sessuale non ha necessariamente a che fare per esempio con la penetrazione qualunque modalità qualunque anche non necessariamente dovuta a toccamenti fisici e quanto altro quindi soltanto all'esposizione in materia sessuale o di comportamenti sessuali che non sono adeguati all'età del bambino o del minore costituisce un abuso naturalmente dell'abuso sessuale che poi a seconda poi dell'età a seconda del livello o del grado di parentela della genitorialità o quanto altro poi ha naturalmente delle conseguenze diverso il caso del maniaco spesso è una persona insicura che vive male la propria sessualità certamente vi è una immaturità affettiva vi è anche un arresto probabilmente una fissazione come alcune teorie insomma sottolineo a stadi infantili anche il seriale non è che ha le sembianze di un orco e adesso puntiamo invece il riflettore sul reportage andato in onda su Rai News dalle ultime vicende travagliate che hanno interessato il comparto agricolo nel nostro territorio e che hanno visto in prima linea anche gli imprenditori di altra agricoltura inchiesta andata in onda nei giorni scorsi ed è servita ad approfondire appunto le problematiche di cui soffre il settore anche Mamma Rai accende il riflettore sulle problematiche attanaglio del comparto agricolo della fascia trasformata in azione una troupe di Rai News che ha puntato nei giorni scorsi l'attenzione sulle ultime vicende che hanno visto protagonista altra agricoltura dall'iniziativa di protesta alle manifestazioni con il presidio dello sciopero della fama per finire al caso dei prodotti taroccati e che hanno fatto scendere in campo anche la guardia di finanza ho scoperto che c'era della melenzana in un imballaggio che io conoscevo che è a parer mio spagnolo incuriosito dal fatto che era marcata invece Italia Made in Italy e ho alzato l'imballaggio e ho visto che il produttore di quella melenzana ero io io in quel periodo non producevo melenzana fatta la denuncia da 6 milioni di Euro di fatturato la mia azienda entra nel baratro e praticamente mi ritrovo con 2 milioni di Euro di fatturato di centomi che poi mi hanno praticamente buttato fuori dalla grande distribuzione sono diventato una persona scomoda per la grande distribuzione perché ho avuto il coraggio di denunciare il suppruso che mi hanno fatto mi hanno tagliato fuori completamente e quindi ho dovuto licenziare 100 dipendenti e sto combattendo adesso per cercare di non far farlire l'azienda che cosa è ormai molto difficile il produttore ci ha dato delle indicazioni precise e noi siamo dovuti intervenire per verificare che queste indicazioni effettivamente fossero veritiere cosa che abbiamo potuto rilevare facciamo un passo indietro perché a proposito del comunicato dell'EPD di Vittoria che criticava i comportamenti dell'Udc in particolare del consigliere Barrano c'è lo stesso Barrano in queste ore che replica e dice il sostegno dell'Udc alla maggioranza passerà sulla concordia riguardo ai progetti per Vittoria poi personalmente afferma Barrano la mia presenza in consiglio comunale nelle commissioni è sempre stata assidua partecipata e produttiva il vero noccio del discorso rimarca Barrano e la collaborazione del mio partito con il comune occorre essere chiari dice Barrano l'Udc ha sempre detto che darà il proprio sostegno sulla base di idee e progetti concreti tralasciando l'estenuante manfrina su deleghi incariche assessoriali e altro giardini in campo presentati dalla cittadinanza di Vittoria alle istituzioni i lavori dell'iniziativa che vede in campo come è noto studenti blei e francesi sono le giornate a vittoria dei cosiddetti giardini in campo iniziativa didattica mirata a riqualificare l'area verde all'ex campo di concentramento e proprio di pomeriggio presente il vice sindaco Filippo Cavallo gli studenti blei francesi che si sono intestati l'iniziativa hanno presentato i lavori di cui si sono resi protagonisti alla cittadinanza e alle istituzioni si tratta di lavori realizzati col materiale già esistente nella zona secondo il principio del riciclaggio e col supporto logistico dei partner in questo modo e con questi risultati soprattutto i cittadini potranno tornare ad usufruire degli spazi a verde dell'antico campo di concentramento sicuramente una delle aree più estese di indubbio interesse paesaggistico visto che si trova collocato dal centro urbano e la vallata dell'Ippari nei giorni scorsi gli ultimi interventi di riqualificazione per un progetto che ha riscosso in città unanimi consensi grazie alla sinergia dalla scuola del paesaggio di Versailles il Comune Ipparino e il contributo di Fieremaia oltre che di vari sponsor privati e ripomeriggio come detto la naturale conclusione dell'iniziativa con la presentazione dei lavori finalmente ultimati Adesso Comiso con le società sportive che lanciano un appello si appellano al sindaco Alfano appunto affinché sospenda le gare di affidamento degli impianti sportivi a lanciare l'appello in un documento condiviso il Presidente delle società appunto di Comiso Lo stadio comunale il palazzetto dello sport di via Tolstoi la palestra Spallanzani sono solo alcuni degli impianti sportivi comisani per i quali è stata avviata una gara di affidamento una procedura imposta dallo stato di dissesto dell'ente ma che non piace alle associazioni sportive Casmenè i cui Presidenti hanno sottoscritto un documento contenente un appello al sindaco Alfano al primo cittadino comisano viene chiesto di sospendere le gare e di aprire un tavolo di concertazione la procedura avviata dall'amministrazione scrivono nel documento unitario i Presidenti dell'ASD Comiso dell'Ardens Pallavolo dell'Annunziata Pallavolo della Diana Calcio Femminile della Basket 2010 e dell'Olimpia Basket metterà a serio rischio l'attività di tante storiche società sportive e distruggerà un patrimonio unico obiettivo del tavolo di concertazione voluto dai rappresentanti delle società sportive cittadine è quello di mettere in campo invece sinergie per trovare delle soluzioni e dei percorsi di collaborazione comuni per la gestione delle strutture che permetta a tanti cittadini di poter continuare a svolgere l'attività sportiva importantissima per la crescita fisica, civile e sociale dei cittadini Siamo al calcio mentre nel pomeriggio il Ragusa anticipa in Serie D sul campo di San Biase domani riparte il campionato di eccellenza dopo la sosta per le festività pasquali su tutte spicche il derby tra modiche e vittorie mentre l'Orlandina se batte in casa l'ACI Sant'Antonio può festeggiare la promozione con tre giornate di anticipo Terzo ultimo turno domani in eccellenza che riparte per il rush finale dopo la pausa pasquale domani si comincia alle 16 nuovo orario e la giornata propone in particolare il derby del Caitina tra modiche e vittoria poi lo sconto diretto in chiave playoff tra Mazzara e Tiger e la gara casalinga dell'Orlandina contro l'ACI Sant'Antonio con la capolista in questo caso che con una vittoria potrebbe festeggiare in anticipo la promozione poi la coda dove il comiso non può assolutamente fallire tre punti contro il già retrocesso atletico Gela tornando al derby del Caitina invece di fronte c'è un modica che cerca punti in chiave playoff e un vittoria che punta a consolidare la seconda piazza ed è proprio il piazzamento playoff che continua a tenere a destra l'attenzione attestato che l'Orlandina si può considerare praticamente in porto che il vittoria e i due torri hanno il posto assicurato non restano che altri due posti con Novigea Tiger, Modica Mazzara e la gara di Sant'Antonio in lotta per assicurarseli la giornata poi è completata da Rosolini Misterbianco San Gregorio Lavolo e Taormina Novigea Alliamo adesso dell'impianto sportivo Ciccio Raffa gli uffici comunali infatti su input dell'esperto alle politiche sportive Fabio Prelati stanno lavorando per risolvere il problema dell'approvvigionamento idrico come è noto ha dichiarato Prelati questo impianto è stato progettato e poi realizzato senza tenere conto della mancanza di risorse idriche per cui è stato impossibile procedere per completare la realizzazione anche di un campi in erba naturale o individuato dice Prelato uno spiraglio burocratico che consentirà di ottenere l'omologazione del CONI necessaria per non perdere il finanziamento previsto dal credito sportivo attraverso appunto la realizzazione del campi in calcio interrabattuta di concerto con lo stesso CONI prosegue Prelati che ha indicato quale devono essere le caratteristiche del fondocampo si procederà all'approvazione della perizia di variante per poi ricevere il parere positivo dello stesso comitato nel mese scorsi conclude Prelati sono anche valutate svariate ipotesi per apprigionare l'impianto di acqua ma in maniera responsabile c'è scelto di non disperdere ingenti quantità uso liquido che serve le abitazioni civili della città per irrigare un campi in erba seppure questo serva per praticare sport adesso il repirogo dei rifatti in primo piano ha comiso le fibrillazioni in seno all'UDC che comincia a perdere pezzi il consigliere comunale Alessandro Castella si è infatti dichiarato indipendente mentre Luca Barone diventa il nuovo coordinatore cittadino del partito della vela Barone avrà il compito di creare il coordinamento del partito in città oltre al comitato elettorale in vista delle imminenti amministrative e per il vittorese Barrano dell'UDC questa nomina deve essere di esempio per vittoria due arresti per spaccio di stupefacente a comiso da parte dei carabinieri in manette due fratelli catanesi in possesso di un chilo di marijuana i due pusher sono stati raggiunti e fermati poi dopo un breve inseguimento entrambi incensurati viaggiavano su due auto diverse la droga è stata sequestrata e verrà adesso inviata in un laboratorio di analisi per stabilire l'effettiva composizione e il numero delle dosi Il reportage sul Rai News 24 delle ultime travagliate vicende che hanno interessato il comparto agricolo Ipparino i riflettori puntati in particolare sulle vicissitudini affrontate dagli imprenditori di alta agricoltura ne viene fuori un quad esaustivo di mesi di lotte e battaglie affrontate dal gruppo guidato da Gaetano Malannino passando dal presidio in piazza Calvario ai prodotti taroccati fino ai viaggi a Palermo ad incontrare il presente Crocetta Presentate alla cittadinanza di Vittoria le istituzioni i lavori relativi al progetto denominato Giardini in Campo opera di riqualificazione dell'ex campo di concentramento da parte di studenti Iblei e francesi si tratta come è noto di lavori realizzati con materiale già esistente in loco secondo il principio del riciclaggio e con il supporto logistico dei vari partner rappresenta il vice sindaco Filippo Cavallo Un appello al sindaco di Comiso Alfana affinché sospenda le gare di affidamento degli impianti sportivi in città a lanciarlo in un documento condiviso diversi dirigenti di società sportive e cittadine una procedura quella del comune non gradita appunto alle associazioni sportive Casmenè e al primo cittadino viene chiesto in pratica di sospendere le gare e di aprire invece un tavolo di concertazione Per il momento è tutto grazie per l'attenzione appuntamento alle prossime edizioni